Le strutture amministrative sono al servizio di quello che noi facciamo, spetta a noi utilizzarle e sollecitare le risposte tecniche che sono funzionali ai nostri programmi. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, conversando con i giornalisti a margine delle celebrazioni per padre Pio a San Giovanni Rotondo. Fiducia in Tria? O massima fiducia, in lui così come in tutti i miei ministri, ha aggiunto. La burocrazia, le cosiddette strutture amministrative sono al servizio delle nostre iniziative, spetta a noi dare l'indirizzo, il dialogo è serrato, ha aggiunto Conte. Andiamo oltre sterili polemiche, che di certo non aiutano. Vogliamo fare una manovra nell'interesse di tutti, realizzeremo tutti i punti significativi del programma annunciato ai cittadini, scrivendoli nel contratto di governo. Manovra lavoriamo uniti, ritornerò domani a Roma. Stiamo lavorando a dei passaggi molto significativi nella nostra esperienza di governo. Abbiamo una manovra in pieno corso alla quale stiamo lavorando tutti con estrema dedizione e concentrazione. Punto se la manovra deve essere miracolosa. La manovra non deve essere miracolosa. Più laicamente, deve essere utile al paese. Coraggiosa, seria, razionale, ha detto ancora. Infine sul reddito di cittadinanza agli stranieri, il premier ha precisato non entro nei dettagli. Stiamo valutando tutti gli aspetti tecnici. Stiamo valutando tutti gli aspetti.